Le prime cinque schede nell'ingresso del secondo Junior Call, numero 75, la DOS & GENTLEMAN NUMBER 75. E' la vittoria ovviamente per questo meraviglioso grigio che nasce da Nazim, Nassim Al-Rashidiah, Nader Al-Ghanayim. A wonderful son of Nassim Al-Rashidiah, out of Al-Wajar Al-Dannat, bred and owned by Al-Altuweni, the Al-Ghanayim Stead Farm, congratulations, 93-10, the score, Nader Al-Ghanayim. Best score, top score, Nader Al-Ghanayim, 93.10, miglior punteggio ottenuto sino a questo momento in tutte le categorie di sputato.